Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica di scatto e ritocco. Abbiamo visto la scorsa settimana come realizzare foto di invisible mannequin, quindi abiti scattati su manichini che andranno poi rimossi in post produzione. Vediamo oggi in questo video appunto come seguire la fase di post produzione e soprattutto qual è il flusso di lavoro per quanto riguarda appunto il ritocco di abiti su manichino. Innanzitutto selezionando diverse tipologie di abiti abbiamo questo pantaloncino, poi abbiamo questa giacca, abbiamo questi due top che sono simili perché voglio mostrarvi come vado ad allineare le forme di abiti simili e poi abbiamo questo top alla fine che è comunque abbastanza difficile. Come strumento di scontorno preferito utilizzo la penna perché è quella che mi permette di avere appunto uno scontorno davvero molto preciso. Si richiama tramite il tasto P ma come vedremo ovviamente su alcuni vestiti non sarà possibile utilizzarla appieno se non per rifinire la selezione perché ovviamente altrimenti richiederà davvero molto tempo ad esempio se sono presenti dei berletti o comunque diciamo parti del vestito che sono più complicate da scontornare con la penna. Vado quindi a farmi una selezione veloce di quella che è diciamo questo pantaloncino e quello che posso fare dato che è simmetrico mi vado a scontornare semplicemente metà pantaloncino in questo modo. faccio una selezione con un raggio di sfumatura di 0.6 premo la combinazione di tasti command o ctrl j che mi va quindi a duplicare il livello con la selezione seleziono il livello di sfondo e me lo vado a riempire con la combinazione command o ctrl backspace con il bianco. Se non avete qui i colori impostati in default semplicemente prendete il tasto D che vi riporta i colori in default. Una volta che abbiamo questo vi lascio in descrizione anche il link all'azione che vi permette di creare queste guide rapide che soprattutto saranno utili per andare a regolare la simmetria dell'abito stesso. Adesso andiamo a portarci prima innanzitutto al centro questo pantaloncino o meglio allineiamo il punto in cui appunto andremo a specchiare la parte sinistra quindi non dovrà esserci comunque porzione della parte destra e una volta fatto questo possiamo procedere con il filtro fluidifica a migliorare quella che è la simmetria stessa del appunto del pantaloncino quindi cosa faccio semplicemente mi allineo quella che è la linea centrale poi vado a raddrizzarmi la linea del bacino dato che i pantaloni devono avere per una questione di linearità sempre la linea quasi dritta o meglio più dritta la fate meglio è e poi vado semplicemente nel caso in cui dovessero esserci dei problemi di forma a raddrizzarmi questo pantaloncino adesso cosa faccio tramite lo strumento selezione quindi tasto M da tastiera faccio una selezione fino al centro e poi semplicemente mi vado a duplicare il livello con la selezione quindi Command o Control J premo Command o Control T tasto destro del mouse o della penna rifletti orizzontale e semplicemente me lo vado a portare in questo modo dall'altra parte adesso devo andare a cancellare la porzione centrale dato che si riesce a capire che è stato specchiato mi attivo la maschera di livello con il pennello con il colore nero in primo piano vado semplicemente a cancellarmi diciamo un po' di porzione vicino e semplicemente cerco di camuffare appunto quello che è la riflessione del pantaloncino stesso e come potete vedere già abbiamo un ottimo risultato adesso vado a ritagliarmi l'immagine ovviamente il formato di ritaglio dipende appunto dal cliente e semplicemente vado a portarmi il ritaglio di quadro fino a toccare l'oggetto poi premo la combinazione Command Alt C sulla tastiera e do un valore di 110% in percentuale ovviamente fate attenzione così creerò intorno agli abili sempre lo stesso spazio chiudo l'immagine con la combinazione Command Alt Ctrl Maiusk F questa l'ho impostata io in maniera appunto personale perché è una combinazione che mi piace se andiamo nel menu dell'applicazione nella parte che riguarda i livelli e andiamo in basso dobbiamo andare sulla voce unico livello con la combinazione Ctrl Shift F vediamo questa combinazione e quindi ci andrà a chiudere il livello così possiamo direttamente premere il tasto Command o Ctrl S e salvare l'immagine semplicemente andandola solo a scrivere nel caso in cui si tratti di un JPEG come vedremo poi dopo quindi abbiamo pronto questo manichino non ci sono particolari correzioni da fare su delle pieghe c'è sì un po' di movimento qui ma va benissimo lasciare così adesso andiamo a vedere come appunto scontornare questa giacca in questo caso mi avvalgo sempre dello strumento penna vado a creare un piccolo gap qui vicino anche perché è presente e soprattutto andare a colleggerlo richiederà del tempo quindi mi conviene semplicemente andare a crearlo in questo modo poi inizio lo scontorno di quello che è il manichino vedremo in questo caso alcune diciamo tecniche che ci permetteranno di analizzare la simmetria del manichino stesso quindi faccio un attimo lo scontorno e poi capiamo effettivamente come procedere una volta quindi fatto lo scontorno ci avrò messo all'incirca 30-40 secondi vado comunque a duplicarmi con la selezione riempio il livello di sfondo con i comandi command o control backspace e abbiamo quindi la giacca mi attivo le linee guida così mi vado ad allineare la giacca sul punto centrale adesso come potete vedere tramite le linee guida non è perfettamente simmetrica prima di aggiungere l'interno vado innanzitutto a fluidificarmi una parte o la porzione che più mi piace della giacca in questo caso mi vado a fluidificare la parte sinistra e cosa posso fare? semplicemente vado a correggere ulteriormente quella che è la simmetria di questa giacca quindi vado a renderla ancora più perfetta e poi cosa facciamo? per andare ad aggiustare anche la parte destra diamo invio tasto M da tastiera ci creiamo una selezione di questa parte command o control J command o control T tasto destro nel mouse rifletti orizzontale la porto da questa parte e adesso quindi ho delle linee guida di come andare ad allineare la parte inferiore ma cosa posso fare per renderla ancora più visibile? command o control clic sul livello che abbiamo duplicato tenete premuto ovviamente command o control e poi mi vado tramite i colori qui al lato a portare il nero in secondo piano tramite i tasti X innanzitutto portate i colori in default con il tasto D poi mi premete X e premete command o control backspace sulla selezione così adesso ho esattamente la forma a cui posso andare ad allineare l'altra metà della giacca infatti se vado sul filtro fluidifica command shift X e poi su mostra sfondo mi vado a mostrare il livello 2 che è il livello che ho creato adesso sono libero di andare ad allinearmi ulteriormente la giacca così da avere una giacca perfettamente simmetrica quindi faccio un lavoro con il filtro fluidifica mi raccomando utilizzate sempre pennelli molto grandi che non andranno a distorcere particolarmente quelle che sono le texture presenti all'interno dell'immagine nel caso in cui non riuscite ad allineare perfettamente non vi preoccupate cercate comunque solamente di avere un abito bello delineato e soprattutto lineare appunto e poi concludete quindi con un allineamento finale e sicuramente avremo adesso un abito molto più prestante e appunto simmetrico adesso possiamo aggiungere l'interno dell'abito vado quindi a prendermi la fotografia dell'interno strumento penna tramite il tasto P faccio una selezione veloce in questo modo crea una selezione command o ctrl j command o ctrl c poi command shift v per incollare nella stessa posizione così ce lo troveremo più o meno allineato e poi zoom all'interno dell'immagine e mi vado a trascinare l'interno diciamo in questo modo adesso posso procedere in due modi o col filtro fluidifica attivando lo sfondo oppure me l'allineo semplicemente con lo strumento trasforma che ci permette appunto di andare ad allineare o in realtà lo strumento altera scusate ma a volte mi vengono in mente gli strumenti in inglese quindi per me è difficile poi ricordare in italiano come si chiamano esattamente quindi lo allineo e vado con la strumenta gomma che si chiama tramite il tasto E a cancellarmi le porzioni esterne alla giacca quindi abbiamo questo interno nel caso in cui qui in basso non fosse allineato ve lo vado ad allineare a volte è necessario utilizzare il filtro fluidifica ma in questo caso forse dovrei essere in grado esatto di fare questa cosa quindi abbiamo aggiunto l'interno ma come potete vedere effettivamente si è portata fuori centro anche quella che è l'etichetta quindi semplicemente utilizzo il filtro fluidifica per rendere il tutto ancora più simmetrico all'interno dell'immagine mi vado quindi ad allineare l'etichetta perfettamente al centro ovviamente queste sono solo pignolerie mie per mostrarvi un'immagine perfetta ma non è sempre necessario fare questa cosa quindi tenete bene a mente questa cosa una volta fatto questo vado a creare una sorta di ombra all'interno quindi faccio una pressione sul livello tenendo prima il tasto command o control che mi va a selezionare solamente questa porzione dell'immagine prendo il pennello mi riporto i colori sul default così il nero è il colore primario opacità al 10% quindi premete 10 sulla tastiera durezza allo 0% una dimensione abbastanza grande e vado a pennellarmi così da creare una sorta di ombra qui all'interno come potete vedere così rende un po' più realistico l'interno della giacca stesso mi chiudo il livello adesso vado a ritagliare quasi a toccare l'oggetto stesso e poi premo la combinazione command alt c con una percentuale del 110% mi raccomando in percentuale e adesso posso procedere a rimuovere eventuali diciamo pieghe presenti sull'immagine o diciamo queste sorte di ammaccature della texture che posso risolvere molto facilmente con lo strumento frequenze separazione delle frequenze perché in questo caso la texture è davvero molto marcata e andare ad utilizzare il pennello correttivo al volo farebbe semplicemente questa cosa quindi come potete vedere crea queste discontinuità di texture lo strumento pennello correttivo diciamo automatico potrebbe fare un buon lavoro ma comunque come vedete crea degli artefatti lo strumento timbro clone la stessa cosa non funzionerebbe bene molte persone lo utilizzano con bassa opacità tipo così al 30% come potete vedere non mi piace va a rimuovere texture quindi semplicemente andatevi a vedere il video dove parlo di separazione delle frequenze e capite come funziona io ho un'azione che si richiama tramite i tasti shift F9 in questo caso mi va a chiedere quanto deve essere il raggio di sfogatura da un valore di 20 che dovrebbe andare più che bene e semplicemente sul livello del colore che ho creato in maniera separata vado ad utilizzare il pennello miscela colori e mi vado a correggere quelli che sono i problemi di colore all'interno di questa immagine posso procedere sia con questo pennello oppure nel caso in cui fosse necessario il pennello correttivo al volo abilitato in livello attuale e sotto e semplicemente faccio questa cosa anche perché il livello è abbastanza sfocato quindi non si andano a creare problemi di texture all'interno dell'immagine continuo quindi con le correzioni ovviamente questo sempre se volete ottenere un manichino perfetto molte volte non è richiesto alcuni clienti amano comunque vedere le pieghe avere un vestito più naturale ma vi dirò che il 90% dei nostri clienti vuole i manichini davvero scattati in maniera perfetta quindi è necessario fare questa operazione la sto facendo in maniera ovviamente veloce considerate che per ritoccare un manichino sono richiesti dai 5 ai 15 minuti proprio per quelli più difficili in questo caso vado a riabilitarmi il livello delle alte frequenze quindi come potete vedere ho risolto già i problemi relativi al colore quindi questa immagine è pronta per essere salvata un'altra correzione ne voce a scontornare questo posso andare semplicemente a effettuarmi uno scontorno con lo strumento penna vado anche ad aggiustarmi la forma a renderla un po' più piacevole dato che è una forma molto dura questa qui e semplicemente procedo quindi con lo scontorno in questo caso non ho scattato l'interno perché era quasi parallelo al frontale quindi non è necessario inserirlo quindi fate anche molta attenzione durante la fase di scatto se scattare o meno quello che è l'interno dell'abito stesso vado quindi a finirmi la selezione e una volta fatto questo vado sempre a duplicarmi il livello con mando ctrl j seleziono il livello di sfondo limpio di bianco mi attivo le guide vi ricordo che vi lascio l'azione qui sotto in descrizione mi aggiusto la metà di questo manichino quindi semplicemente la rendo un po' più lineare soprattutto allineo la parte in basso e come prima vado semplicemente a ribaltarmi la parte sinistra in questo caso comunque conviene prima correggere quelle che sono le imperfezioni del manichino stesso e possiamo procedere con degli strumenti automatici perché in questo caso non è presente una forte texture che quindi andrebbe a rovinarsi per esempio possiamo andare a rimuovere questa brutta ombra qui al lato dato che secondo me non rende piacevole alla vista l'abito possiamo rimuovere anche quest'altra ombra fate attenzione a cosa campionate come in questo caso ovviamente sto procedendo in maniera veloce e grossolana però preferisco sempre utilizzare le frequenze perché rendono comunque il risultato davvero perfetto secondo me soprattutto non vanno a creare come potete vedere queste macchie che poi ci consentono di ovvero ci costringono a dover ricampionare sempre gli stessi colori quindi mi riattivo le guide e semplicemente vado a specchiarmi quella che è la porzione sinistra del vestito come abbiamo fatto prima do un invio poi semplicemente vado a cancellarmi o con la maschera o in questo caso anche con lo strumento gomma diciamo un po' della porzione centrale così da rendere meno visibile il fatto che sia stato specchiato e semplicemente posso andare di nuovo come prima a realizzare lo spazio intorno potete anche creare un'azione per fare questo io l'ho creata si richiama tramite il tasto F10 ma ve lo faccio vedere in questo modo poi con lo strumento fluidifica vado ad esempio a rendere questa curvatura un po' più naturale abbiamo anche scondornato questo capo in questo caso io nel ritocco finale ho tolto anche questi riflessi perché non sono piacevoli alla vista ma vediamo più con attenzione come magari fare un match della forma su questo manichino mi vado a chiudere il livello e poi mi copio questo livello su quest'altro così ho anche il bianco intorno così da poter fare il ritaglio fino a toccare il bianco si collega in maniera magnetica e semplicemente adesso mi abbasso l'opacità di questo livello mi vado ad allineare a grandi linee diciamo sul livello che adesso ho incollato all'interno dell'immagine e cosa posso fare adesso semplicemente filtro fluidifica vi mostro il livello 2 vediamo un attimo qual è la porzione diciamo più naturale secondo me possiamo fare un flip della parte destra quindi semplicemente vado ad allinearmi tutto quello che è presente sulla parte destra dell'immagine ovviamente procedete sempre con pennelli abbastanza grandi dato che ci aiuteranno comunque a non distorgere la texture o porzioni dell'immagine stessa fate attenzione ad esempio qui in basso è presente una cucitura quindi ad allinearla quasi perfettamente uscite un po' fuori non mantenetevi mai verso l'interno ma fate attenzione comunque a renderla visibile all'interno dell'immagine quindi spendeteci quel po' di tempo per fare questa cosa però almeno avrete un buon risultato vi allineo poi la parte superiore faccio la stessa cosa qui magari mi sposto tutta la manica continuo quindi ad allineare quella che è la cucitura al livello e questo ci consentirà ovviamente nel caso in cui avessimo 10 di questi abiti in maniera appunto colorata differente di avere comunque sempre la stessa forma che una volta visualizzati su un sito web è comunque molto più piacevole alla vista perché può capitare ad esempio che 10 persone ritocchino questi abiti in maniera differente e quindi immaginatevi poi che schifezza che viene fuori quindi semplicemente fate attenzione a queste cose una volta fatta questa cosa semplicemente cosa posso fare andare con la bacchetta magica a selezionarmi diciamo all'esterno il bianco mi vado ad invertire la selezione con i tasti command shift i vado sul livello sottostante mi do un selezione maschera oppure rifinisco manualmente la selezione e come potete vedere abbiamo ottenuto la stessa forma nel livello soprastante quindi mi vado a riempire di bianco adesso non mi resta che andare a eseguire un flip della parte destra sulla parte sinistra quindi selezione con il tasto M e trascino la selezione fino al centro command o control J per duplicare il livello command o control T per abilitare la trasformazione del livello tasto destro di mouse o tastiera rifletti orizzontale mi trascino fino alla parte centrale quella che è la porzione che abbiamo appunto riflesso poi semplicemente vado a cancellarmi un po' della porzione centrale così da non renderlo perfettamente tagliente al centro vi unisco i due livelli selezionandoli con il tasto command o control E e poi mi vado a effettuare le correzioni in questo caso solamente al centro perché sono presenti queste due linee che comunque secondo me possiamo andare a rimuovere per il resto possiamo fare tutto ovviamente prima di eseguire il flip dell'immagine stessa ma comunque diciamo che non mi interessa mostrarvi in questo video come correggere le pieghe eccetera lo vedremo magari in un video dedicato dove appunto analizzeremo più approfonditamente tutte queste cose quindi abbiamo come potete vedere le due immagini allineate andiamo a fare l'ultimo scontorno perché in questo caso siamo costretti ad utilizzare la bacchetta magica che si richiama tramite il tasto W dato che è presente molto contrasto possiamo anche lavorare su valori di magari 35 faccio una selezione quindi di tutto quello che voglio andare ad escludere dall'immagine senza ovviamente prestare troppa cura a tutti i dettagli mi inverto la selezione command o control shift E selezione maschera utilizzo questi valori quindi magari utilizzate gli stessi contrasto anche un po' di meno magari in questo caso quindi 12, 0.6, 19, 15 mantenetevi massimo ad un valore di 25 per il liscio per il contrasto e per lo sposto da bordo mentre la sfumatura mai più di un pixel ok adesso mi nempio il livello di sfondo quindi command o control backspace mi abbinito le guide così mi porto un attimo al centro quello che sto andando a diciamo selezionare poi posso andare a rifinire in questo caso con la penna la selezione per esempio vedete che questa linea a lato è un po' sporca tra virgolette non è perfetta quindi semplicemente vado a crearmi una curvatura ancora più diciamo bella e liscia così da rendere l'abito ancora più diciamo lineare anche perché questa è una cosa molto richiesta quindi diciamo che i processi da fare sono scontorno, aggiustamento con il filtro fluidifica della forma poi possiamo procedere con la rimozione di pieghe e imperfezioni presente sull'abito stesso ed infine possiamo ovviamente salvare l'immagine altre volte può essere ad esempio utile utilizzare lo strumento gomma in questo caso ci permette di cancellare molto velocemente delle parti che non vogliamo all'interno dell'immagine come in questo caso ad esempio io rimuoverei la vista dell'interno ovviamente sto utilizzando una tavoletta grafica che mi è molto comoda a volte alterno vari strumenti con tavoletta grafica e mouse perché mi trovo in questo modo però cerco sempre di utilizzare i pulsanti della penna a volte mi sono comodi a volte no in base appunto alle funzionalità che sto andando ad utilizzare quindi adesso cosa possiamo fare possiamo innanzitutto ovviamente come avete capito andrò a fare un flip della parte destra quindi andrò ad aggiustare la forma di questa parte stessa dovrei realizzare anche un tutorial sul filtro fluidifica dato che lo utilizzo spesso ma non c'è un vero e proprio video sul canale ma non vi preoccupate che arriverà adesso ovviamente posso procedere con l'aggiustamento di quelle che sono le pieghe ma lo faccio in maniera davvero velocissima semplicemente vado a darmi una leggera sfocatura tramite il pennello miscela colori in questo modo perché va già benissimo l'abito comunque è in questo modo rimuovo magari questa linea di cucitura che secondo me non è carina da vedersi scegliete voi per utilizzare il pennello correttivo al volo il pennello con il punto campione questo funziona nella maggior parte dei casi però a volte è comunque necessario dargli un punto campione se no siamo lì a pennellare pennellare e non riesce effettivamente a correggere determinate cose oppure sbaglia appunto il punto campionatore quindi fatelo combinate gli strumenti tra di loro non abbiate paura nel fare questo riabilito le guide vi lascio ovviamente il link al download in descrizione quello che vado a fare mi chiudo sempre il livello vi ho mostrato prima come fare all'interno del video tramite la combinazione command-maiusk-f o command-shift-f quindi mi dubbligo il livello lo vado a riflettere orizzontalmente da quest'altra parte torno al centro mi cancello un po' quella che è la porzione centrale così da non renderlo esattamente netto e semplicemente vado poi a cancellare tutto quello che è rimasto al di fuori di questa selezione appunto se volete dare un'occhiata a quello che è lo scontorno che avete realizzato se quindi avete eliminato esattamente tutto quello che è esterno al manichino potete abilitare o meglio potete creare un livello di valori tonali portare il punto a sinistra completamente verso destra e questo ci andrà ad evidenziare le eventuali imperfezioni presenti all'interno dell'immagine come potete vedere ad esempio sono presenti questi punti che vado a cancellare e questo può essere utile ovviamente se ci sono situazioni del genere nessuno lo noterà mai però ovviamente se ci sono particolari porzioni che possono confondersi specialmente quando avete lo zoom in questo modo adattato allo schermo semplicemente utilizzate questo metodo create un'azione io ce l'ho magari ve la lascio al link in descrizione qui sotto anche questo manichino quindi è finito me lo vado a ridimensionare come ho fatto prima premo il tasto alt così ridimensiono mantenendo le proporzioni su tutto il quadro vado a darmi il ritaglio come ho fatto prima command o ctrl alt c valore di 110 110 scusate se sono ripetitivo ma è meglio essere ripetitivo e mettervi in testa tutte le funzionalità piuttosto che dire una volta e poi effettivamente vi dimenticate cosa sto facendo e quindi ho finito anche con quest'ultimo manichino bene anche questo tutorial finisce qui queste sono le immagini finali che abbiamo quindi ritoccato oggi io vi ricordo di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto ed iscrivervi al mio canale per supportarmi soprattutto seguitemi su instagram che social che mi permette di stare più in contatto diretto con voi noi ci vediamo in un prossimo appuntamento un saluto da Marco ciao a tutti grazie a tutti